Nella notte di Capodanno non ci sono state vittime solo per i fuochi d'artificio illegali. In ospedale sono finiti anche molti minorenni per abuso di alcol. Sandra Cecchi. Centinaia nella notte di Capodanno i ricoverati per coma etilico, in gran parte minorenni. Una ventina i ragazzini e le ragazzine finiti in ospedale nel Vicentino, quattro a Bolzano, oltre 50 quelli soccorsi a Trieste. All'ospedale Cardarelli di Napoli sono stati curati per coma etilico 20 minorenni, il doppio dei feriti dai fuochi d'artificio illegali. Tra i pazienti più gravi due adolescenti, poco più che bambine. Le chiamano le vittime bianche del San Silvestro, minorenni storditi dall'alcol fino a svenire. Giovanissime anche le vittime dei botti inesplosi, un grave pericolo nei giorni seguenti Capodanno. A Milano due i feriti, tra cui un bambino. Altri due quattordicenni di Altamura hanno riportato lesioni a mani e gambe. A Taranto un petardo è esploso tra le mani di un undicenne che lo aveva appena raccolto. Gli sono state amputate due dita, ferito l'amico che era con lui.